Euro commemorativi e emissioni comuni. Per la seconda commemorativa, comune a tutti i paesi dell'Unione, la moneta, decimo anniversario Unione Economica e Monetaria del 2009. Per questa, cinque disegni proposti. Quinto posto col 7% dei voti, quarto posto, terzo posto, 11% dei voti, al secondo posto, 32% dei voti e al primo posto, col 41% dei voti, l'omine stilizzato fuso nell'Unione al simbolo dell'Euro. Sopra la figura il nome del paese di emissione e in basso l'indicazione 1999-2009 e l'acronimo UM tradotto nella lingua nazionale. Le monete di Austria, Belgio, Olanda hanno una tiratura di 5 milioni di pezzi circa, 8 euro il valore, Spagna, 8 milioni di pezzi, Francia, 10 milioni, queste due a 10 euro. Oltre i 30 milioni di pezzi per la Germania, 8 euro circa per le varie zecche, intorno ai 4 milioni di pezzi per la Grecia e Irlanda, 8-10 euro. 2 milioni di pezzi per quella dell'Italia e 2 milioni e mezzo per la Slovacchia, queste due 7 euro e fin qui sono quelle più facili da trovare. Adesso Finlandia, 1 milione e 400 mila pezzi, 12 euro, poco più di 1 milione e 200 mila per il Portogallo, 10 euro, Slovenia, 1 milione di pezzi prodotti, 7 euro. Infine i paesi con minor tiratura, Lussemburgo, 825 mila pezzi, 7 euro, e Malta 700 mila pezzi, 8 euro.